Due rabbini ortodossi, due chassitini, due super bambini con tanto di barba e boccoli camminano per strada e vedono una donna in difficoltà che cerca di appassare una strada famosa e si impigna nel vestito. Allora uno dei due rabbini solleva questa donna, questa bella, donna, giovane, se ti porta io dall'altra parte la prenda e la deposita dall'altra parte della strada. Poi i due rabbini continuano a camminare e l'altro rabbino invece è quello che ha sollevato la donna. Quindi non è così inferno, ha impregnato le nostre norme, le leggi. Noi rabbini ortodossi non possiamo toccare le donne, tanto più una bella è un giovane donna. Allora, quello che ha preso la donna dice, vedi, io ho sollevato quella bella fanciola e l'ho depositata dall'altra parte della strada. E tu la stai portando a cuore non te. Ognuno di noi ha delle fragilità e delle debolezze, la prima cosa è di conoscere ciò che non c'è in noi, per non giudicare niente. Il giudizio nei confronti dell'altro non può avvenire finché non ti trovi nelle sue stesse condizioni. Forse è quello che dice probabilmente è questa donna di giudicare, ma è un buon cammino.